Ben trovati, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vessicchio, ad attivare la campanella delle notifiche e a mettere un like se lo ritenete opportuno. La Juventus è a due punti dal primato in classifica, come ben sapete, è a un punto dal secondo posto e affronterà sabato sera il Verona in casa. Da quando è tornato Allegri non è stato mai al primo posto tranne due volte alla prima giornata, o meglio una volta alla prima giornata, no due volte alla prima giornata, poi niente più, poi il primo posto l'ho visto con il cosiddetto cannocchiale. Ora però ha la possibilità di sfatare perché la sua rosa è una rosa importante, è una rosa che è invidiata a tutti i livelli, è la rosa più forte del campionato, un po' corta ma sicuramente più importante del campionato e che può sicuramente dire la sua, o meglio che deve dire la sua, perché vince lo scudetto, come vi dicevo, ormai da tempo, è il minimo sindacale per questa Juventus, imbottita di campioni, di gente che è titolare nelle proprie nazionali e soprattutto big nelle proprie nazionali. Ma a mio modesto parere e come da tempo anche in questo vado predicando, in pratica la Juventus è al terzo posto, ma sarà al primo posto se saranno confermate le premesse della vigilia del campionato, cioè la favorita numero uno del campionato, perché il non allenatore sulla panchina sta adottando il 3-5-2, che è il modulo che negli ultimi 11 anni ha vinto per nove volte il campionato di Serie A, addirittura c'è chi ci vince nelle Champions League, vedi Tuchel, per cui è il modulo che copre meglio il campo, ma è anche il modulo più importante per chi non sa far giocare le squadre. Per cui per Allegri è l'unico modo possibile il 3-5-2, in altre circostanze le sue squadre vanno a capallaria, il 4-3-1-2 con il quale regalò lo scudetto a Conte nel 2011-2012, la dice lunga, oppure andiamo a valutare i primi due anni dell'Allegri Miss alla Juventus, comincia con il 4-3-3 nel campionato 2021-2022 e alla non aggiornata, siamo alla non aggiornata, per cui vi riporto la non aggiornata, tiene 15 punti, 10 meno del Napoli che ne aveva 25 alla non aggiornata, con il 4-3-3 e addirittura il 4-4-2. L'anno scorso, alla non aggiornata, intanto era già quasi fuori dalla Champions League, con il 4-4-2, vi ricordo il 4-4-2, e aveva 13 punti rispetto ai 23 del Napoli che era prima in classifica. Quindi anche in questa circostanza 10 punti di distacco dalla Capolista e due anni fa 10 punti di distacco dalla Capolista, che era sempre il Napoli. Quest'anno invece ha, alla non aggiornata, soltanto 2 punti di distacco dalla prima in classifica, che poi è l'Inter, e uno dalla seconda in classifica, che è il Milan, ed è davanti al Napoli di tre punti. Quindi ci troviamo di fronte a una situazione decisamente ribaltata anche per effetto del 3-5-2, che è il modulo, ripeto, più speculare, più importante, quello che dà più punti alla Juventus, quello che la copre meglio. Tanto è vero che la Juventus ha subito soltanto 5 gol e la seconda difesa del campionato rispetto all'Inter, ne ha subiti 4, ma c'è da dire di più. Di questi 5 gol ne ha subiti 4, o meglio 6 gol ne ha subiti, e 5 l'Inter, 4 li ha subiti in una sola partita. La sconfitta con il Sassuolo, poi ne ha subito uno in casa con il Bologna e ne ha subito uno in casa con la Lazio, con il Bologna ha pareggiato e con la Lazio ha vinto per 3-1. Un ruolino di marcia molto importante, perché il 3-5-2, collocato con dei giocatori predisposti al 3-5-2, è sicuramente il miglior modulo possibile. Laddove lo dovesse cambiare, laddove gli dovesse venire in testa di cambiarlo, la Juventus scenderebbe subito al centro classifica, senza batterciglio. Purtroppo è così, non esiste altro modulo per un non allenatore. Il non allenatore con il 3-5-2 riesce ad ottenere dei risultati. Se si continua in questo modo e se si continua soprattutto con l'inserimento dei calciatori al proprio posto, mi riferisco soprattutto all'esternodestro della Juventus, il quinto a destra UEA, con McKennie al centro del campo, interno di centrocampo, cioè il suo ruolo, sicuramente si guadagna di più in termini di proposta, in termini di doppia fase, in termini soprattutto di presenza anche nella metà campo avversaria. Perché la Juve è più presente nella metà campo avversaria da quando McKennie, che non è un grande campione tutt'altro, ma è sicuramente un giocatore normalissimo che fa il suo compito e fa il suo dovere, è più presente, dicevo, nella parte avversaria del campo. Perché questo è praticamente l'elemento principale, l'elemento molto importante di una situazione molto attiva per quanto riguarda la Juventus. È evidente che rispetto agli altri anni, corna facendo, la Juventus sta subendo anche meno infortuni. Perché noi è vero che vogliamo dire che la Juventus è senza Pogba e senza fagioli. È vero, ma è anche vero che gli altri anni subiva importantissimi infortuni, per cui era sempre costretta a rinunciare a tre, a quattro, cinque elementi. Quest'anno invece, grazie a Dio, gli infortuni sono di meno e quindi non c'è bisogno di stravolgere più di tanto. Una formazione base c'è, ci sono degli elementi affidabilissimi in ogni posto del campo, ci sono elementi di grande importanza, c'è una rosa davvero forte, non formidabile ma forte, una rosa d'attacco sicuramente la migliore del campionato italiano e soprattutto ci sono giocatori come per esempio Irig Junior che non hanno preso parti ma parte fino a questo momento al gioco, se non in qualche circostanza, ma che farebbero i titolari in tutte le big del calcio europeo, Bayern di Monaco piuttosto che il Barcellona, piuttosto che il Real Madrid, piuttosto che il Manchester City, Irig Junior farebbe il titolare ovunque, nella Juventus non fa il titolare e questo che cosa significa? Significa che la Juventus è una grande rosa, una rosa anche di grande impatto. Sento ancora critiche a Keane, ma Keane è un giocatore che innanzitutto è il nazionale, poi è uno che sa giocare a calcio, è uno che non ha continuità, per cui non può essere realizzativo, non realizza perché non ha continuità, ma nel momento in cui lui avrà continuità, io credo sarà il sostituto di Vlaovic nel centro d'attacco della Juventus, nel momento in cui la Juventus venderà a Vlaovic, il campione ce lo ha in casa, il centroavanti ce lo ha in casa, credo che vedremo un kin realizzativo al massimo in quella circostanza. Ecco perché la Juventus non deve toccare assolutamente il modulo, non può toccare il modulo e toccando il modulo sarebbe un danno enorme, il 3-5-2 fino a questo momento sta dando i giusti risultati, certo io credo che la Juventus dovrebbe avere più punti dell'Inter perché col Bologna non gli hanno dato due rigori, non gli hanno concesso nemmeno nella partita con il Sassuolo qualcosa, lì c'è una sconfitta che non va nemmeno presa in considerazione, nel senso che è una sconfitta netta, inequivocabile, meditatissima e via dicendo. Però l'Inter come sapete ha avuto un campionato davvero in discesa, su otto partite pensate ne ha fatte sei in casa o cinque in casa o sei in casa, addirittura in Coppa dei campioni, già gli hanno fatto fare due in casa su tre, immaginate come questa squadra ha tutti i favori, ovunque si parla, si sente dire Inter favorita, Inter super favorita, io vorrei sapere da dove gliene viene, però che questa è la mala fede, la mala fede totale se si considera che non hanno top player in squadra se non Danfris, una rosa lunga, questo è vero e soprattutto stanno avendo molti calci di rigore, ci sono o non ci sono, li stanno avendo. Ebbene, al momento diciamo Biasin si permette di scrivere sui tweet quei numeri e ha ragione perché i numeri parlano chiaro, poi vediamo il giorno di ritorno, quali saranno i numeri, se la Juventus continuerà a tenere il 3-5-2, continuerà a mettere i giocatori al proprio posto e non farà allegriate, farà dunque tutto normale, cioè metterà i giocatori tutti al proprio ruolo e regolarizzerà la squadra, io credo che se non ci sarà il ritorno del Napoli la Juventus rimarrà la favorita per questo scudetto che può perdere solo lei perché la squadra più forte, cioè questo campionato lo può perdere solo Allegri, solo la presenza di Allegri e l'ostatività allo scudetto. Mi fermo qui, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vessicchio, ad attivare la campanella delle notifiche, a mettere un like se lo ritenete opportuno, vi ricordo che sui siti tuttojuve.net e calciogol.it abbiamo sempre delle cose molto originali, molto particolari. C'è un bel articolo di Antonio Pesca sulla dietriba di famiglie tra gli Elkan e gli Agnelli, soprattutto dopo la rinuncia del Consiglio di Stato dove la Juventus questa volta avrebbe avuto ragione e la FIGC se la sarebbero dovuta vendere, ma di questo e di altro avremo modo di parlare in uno dei prossimi contenuti che andremo a fare. Mi ringrazio tanto per avermi seguito ancora una volta, appuntamento ai prossimi contenuti.